Ciao a tutti! Steven Spielberg produrrà il remake di Furore, il capolavoro di John Ford. Vi dico tutto dopo il video. Che diavolo è stato? Preparatevi ad affrontare l'estinzione. Correte! The Lost Dinosaurs al cinema. La Dreamworks è in trattativa con gli eredi dell'autore John Steinbeck per sviluppare una nuova versione del suo romanzo The Grapes of Wrath, Furore. Deadline riporta che Spielberg, tramite la Dreamworks, produrrà il remake di Furore, film diretto da John Ford nel 1940 e vincitore di due premi Oscar. Il regista di E.T., che inizialmente sembrava interessato anche alla regia di questo progetto, si limiterà, secondo le ultime indiscrezioni, a scegliere il regista più adatto, che non ha ancora un nome. E per oggi è tutto, visitate anche la nostra pagina Facebook Film is Now. Ciao e alla prossima!